Un colpo alla cassaforte dei Mannolo di San Leonardo di Cutro è quello assestato con l'operazione Soldi Rosso Sangue condotta oggi dalla Guardia di Finanza di Crotone con il coordinamento del procuratore della Didiatica Tanzaro Nicola Gratteri che ha portato al sequestro di 360.000 euro in contanti a disposizione della COSCA. I finanzieri hanno compiuto una serie di perquisizioni in esecuzione di un provvedimento a carico di persone accusate di aver nascosto denaro contante provento delle attività criminali per conto del capo della locale d'Indrangheta di San Leonardo di Cutro. Già l'indagine malapianta aveva consentito di scoprire l'esistenza di un locale nel lago di San Leonardo facente capo alle famiglie Mannolo, Trapasso e Zoffreo con ramificazioni in Puglia, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e proiezioni estere con a capo Alfonso Mannolo attualmente in carcere. Grazie ai contenuti di alcune intercettazioni e alle dichiarazioni di Dante Mannolo figlio del boss divenuto nel frattempo collaboratore di giustizia si è arrivati adesso a identificare alcuni soggetti e alcuni luoghi dove era presumibile ritenere fossero occultate somme di denaro incontante.